Sì, lui il calcio. Sempre. Calcio d'angolo ancora per la Lazio. Il pallone verso il primo pallo lo mette fuori Javier Sanetti. Insiste Del Nero, palla sul sinistro. La pressione su Del Nero, vincente di Montari. Prova a ripartire Maikon. E Maikon riesce a saltare la copertura di Kolarov. Poi il pallone in verticale. Stankovic con Eto'o e tre uomini dell'Inter dentro. Arriva il pallone sbagliato da Dechi. Poi ancora Stankovic che cerca il traversone. Eto'o Musler assemble! Eto'o! 1-0! E' micidiale l'Inter nelle ripartenze. Qui la Lazio si è fatta sorprendere su un'azione offensiva. Sono ripartiti in superiorità numerica. Sbagliato il primo cross, però la palla è ritornata ancora Stankovic che è riuscito ad alzarla e metterla sul secondo palo. Dove Eto'o è stato bravo a metterla dentro. Erano 4 contro 2 in mezzo all'area di rigore. Praticamente dominio addirittura degli attaccanti dell'Inter rispetto alla difesa della Lazio. Eto'o Musler è anche bravo. Ma poi Eto'o la piazza. Con l'Atalanta l'aveva piazzata sul secondo palo. Qui la piazza sul primo. Musler riesce a rinviare con una parata strepietosa. Ma non può nulla poi. Sul tocco sottoporta di Samuel Eto'o. Che comincia a segnare con buona regolarità. Primo gol decisivo fuori casa per poi il definitivo 1-1 contro l'Atalanta. Per la gol del 2021.